Musica Ciao ragazzuoli qui ZW Jackson e benvenuti sul mio canale Come si può vedere fin da subito la location è abbastanza diversa Nel senso che se io dovessi far così qua potremmo vedere un piccolo esemplare di Dylan e il suo... insomma E si starò tutto il tempo così perché praticamente è tardissimo, è tardanotte Tipo sono andato in salotto per non far troppo casino Ma ragazzi mi è successa una cosa veramente incredibile Quindi cosa ho fatto per farvi questo video che sarà un video abbastanza breve A parte che la mia mano si muoverà tipo come se avessi il parkinson Ma cosa ho fatto? Ho praticamente fatto il video dalla play Messo in chiavetta, messo sul portatile e adesso appunto l'ho editato un minimo così da poterlo commentare Quindi cercherò di fare la migliore ripresa così E niente ragazzi andiamo a commentare insieme questo video perché è qualcosa di veramente incredibile E tra l'altro cioè se questo video dovesse arrivare a 6.000 mi piace Raga sarebbe veramente dei grandi Comunque cioè veramente mi è successa una cosa troppo troppo pazza Ok come si può vedere qua siamo nella nostra carriera allenatore Tra l'altro ragazzi è la carriera allenatore mia personale con l'Aiaccio a modalità leggenda È il secondo anno tra l'altro guardate il mio kin 26 fottuti gol esatto E tra l'altro guardate un po' la squadra Perché è tutta, quasi tutta una squadra Vabbè è tutta una squadra di giovani Però quasi tutta una squadra di giovani presi dalla primavera Intanto sto morendo le mie gambe stanno veramente schiattando Non ce la faccio mica fare tutto il video ma è che dura poco Comunque allora voi mi direte adesso ma cosa c'è di strano? Intanto alzo come la statua della libertà Mi direte cosa c'è di strano in questa squadra? Deve ancora arrivare la stranezza ragazzi Infatti adesso sembrerà una partita normalissima Nel senso è una squadra normale Qua stavo anche perdendo Non fa nulla Ma guardate adesso a fine primo tempo Cosa succede? Guardate Vado qua nella mia squadra E vi farò vedere un giocatore che ho da poco preso dalla primavera Cioè nel senso era un giocatore della giovanile della primavera L'ho portato in serie A Non è lui, non è lui, non è lui È in panchina Non è lui Lui nemmeno Esatto È lui Albert È un 64, 17 anni Che non è neanche malissimo eh E la prima cosa che vi viene in mente a guardare questo giocatore Ditelo No no Io lo so cosa volete dire Però ditelo Non vi spaventate Esatto È nero Ok È la prima cosa È lui Però guardate Quando entra in campo È bianco Raga È bianco È veramente bianco È un giocatore che 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 è un giocatore E insomma come si può essere visto diciamo che l'ho preso in un modo abbastanza strano Ma ragazzi proprio davvero cioè FIFA quest'anno è troppo 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 baggato Mi metto ancora gli occhiali perché boh faceva figo Cioè ragazzi adesso vi stavo facendo vedere tutti i giocatori E appunto questo qua Albert è bianco È tipo Michael Jackson Michael Jackson di FIFA Il Michael Jackson di FIFA Lo potrei chiamare così per fare un titolo clickbait Ma invece no Cioè ragazzi cioè è lui è lui è nero Perché è bianco spiegatemelo per favore Spiegatemelo nei commenti Anzi allora come prima cosa però mi seguite su Instagram E anzi taggatemi su Instagram così Fate lo screen taggatemi su Instagram Tra l'altro qua va anche segnato Cioè veramente è una bestia sto giocatore E niente ragazzi È un video così abbastanza stupido Abbastanza veloce Proprio perché boh mi ha Che cazzo faccio con gli occhiali alle 5 di mattina Proprio perché era una cosa veramente assurda di FIFA Fatemi sapere se appunto vi siano mai successe cose così Commentate qua sotto con la cosa più strana Che vi sia mai capitato Giocando a FIFA 17 in questo caso Ma anche agli altri FIFA Non è che gli altri FIFA fossero dei giochi perfetti Non lo so io non vedo l'ora di FIFA 18 E ragazzi ci vediamo domani Questo video non doveva uscire ve l'ho detto Ci vediamo domani alle 11 di mattina Con le Olimpiadi di FIFA Mi raccomando dato che YouTube non manda le feed Cliccate la campanella Io d'ora in poi vi dirò tutte le volte che carico i video il giorno dopo Però cliccate la campanella così appunto Dicevo così appunto da non perdervi nessun video Da ZV è tutto Dilan saluta Saluta Dilan Ciao